Buonasera a tutti, questo è il primo incontro del 2021 dei giovedì dell'Istituto, questo appuntamento ogni 15 giorni del nostro Istituto per capire un po' come sta andando il futuro della ricerca scientifica e della ricerca applicata, invitando rappresentanti ed esperti dell'industria e anche dell'accademia che ci raccontano un po' le visioni del futuro. Questa sera abbiamo fra noi l'ingegner Ricola, che ringrazio per aver accettato di trattenerci e di raccontarci qualcosa. Concludo rapidissimamente per poi far partire il tutto, ricordando come sempre a tutti i partecipanti che la sessione è registrata e l'evento verrà anche pubblicato sulla nostra pagina, la pagina YouTube dell'Istituto. Detto questo passo la parola al nostro Maurizio Vangeli che introdurrà il pomeriggio, la giornata, l'evento. Quindi Maurizio a te la parola. Bene, bene, grazie direttore, grazie Paolo, buonasera a tutti, un benvenuto a Tommaso, come si diceva prima ci fa piacere rivederci amico ed ex collega ora al DLR. Diciamo prima della tradizionale short bio mi fa piacere molto brevemente sottolineare come in tutti questi anni anche se a tratti sporadicamente con Tommaso abbiamo avuto modo di continuare a collaborare e soprattutto a discutere assieme spesso con viste da diverse angolature l'evolversi del mondo dell'ICT e in particolare nel nostro caso venendo dal mondo delle TLC partendo dalla forte predominanza che ha avuto, se siete tutti d'accordo da questo punto di vista, il mondo delle TLC dalla fine degli anni 90 inizio anni 2000 a loro rendersi diciamo fluide nei vari settori e da confluire ad amalgamarsi in varie discipline ed è soprattutto per questo che ho pensato a Tommaso fin dall'inizio di questa iniziativa proprio nella sua ottica nell'ottica dell'iniziativa di diciamo darci una guida per quanto possibile nel dipanare la nebbia e focalizzare su cosa davvero possa essere oltre o beyond nel lungo termine della ricerca. Da questo punto di vista la tematica che ora Tommaso ci viene a presentare del mobile edge computing che va a interagire tra il lato delle reti satellitari con il 5G è certamente di grosso interesse in ottica, nell'ottica del nostro istituto ma direi in tutta la rete, CNR e oltre, che è coinvolta in queste iniziative. Ti passo subito la parola a Tommaso, io ci tengo, abbiate pazienza a queste introduzioni un pochettino più informali dal punto di vista invece più formale Tommaso De Cola è dal 2002 al 2007 stato ricercatore presso il CNIT e l'Università di Genova dal 2008 a tuttora è ricercatore presso il DLR, il German Aerospace Center a Monaco di Biavera ed è coinvolto in diversi progetti europei e in programmi dell'Agenzia Spaziale Europea ed è coinvolto, all'epoca siamo stati coinvolti anche assieme nei comitati di standardizzazione dell'Ezzi in particolare ma anche dell'ETF e del DVB dal punto di vista più prettamente scientifico e coautore di oltre 100 pubblicazioni in conferenze internazionali e journal, le tematiche di ricerca prevalenti sono le reti TCP e IP, le reti satellitari con applicazioni specifiche di cui ora ci parla in ambito aereo spazio e in reti di emergenza nonché Tommaso è TPC ed editor rispettivamente di conferenze riviste ai Tripoli nel settore TLC e ha appena finito di servire nel 2020, dal 2017 al 2020, come chair della Satellite Space Communication Technical Committee del COMSOC bene, detto questo Tommaso ti lascio la parola grazie Mauri per la gentile presentazione, la gentile introduzione su di me, sull'ente che rappresento io passerei subito ai fatti, nel senso che vorrei mostrare qualcosina sul possibile matrimonio di multi-access edge computing e satellite communications soprattutto nell'ottica che stiamo vivendo in questi giorni, ovvero a livello di pubblicità eccetera se ne parla già da un po' dell'avvento del 5G per cui da un punto di vista scientifico il 5G è quasi il passato nel senso che si inizia già a parlare del 6G e di tutte le nuove tecnologie che ne saranno le cosiddette champion technologies e quindi vorrei mostrare un attimo come tutti questi punti di vista possono convergere a un'unica visione tecnologica che ovviamente per la parte che mi interessa satellite communication può portare a vedere satellite communication come un possibile use case oppure se vogliamo come una delle possibili tecnologie che possono favorire nuovi scenari o nuovi vertigo come si usa dire di questi tempi spero che la presentazione sia visibile adesso se non è un problema preferirei farla in inglese perché le slide sono tutte in inglese ma bene ok so I just said what is the subject of this talk however before diving into let's say the future I would like to spend a few words about the institution that I represent that as just introduced by Maurizio is the German Aerospace Center DLR whose name in full would be in German Deutsche Zentrum for Lufthund Rampart that is a large public body based in Germany it's a government body actually that is spread throughout the entire German territory with around 30 different main sites and with more than 20 different institutes the institute I belong to is the institute of communication and navigation that is based in Oberpfaffenhofen that is a small village about 30 kilometers from Munich where I'm living and then there is another site that is in the north of Germany in Australia that is dealing mostly with maritime communication with respect to the applicability of satellite connections in particular I'm part of the satellite network department where I'm leading the group dealing with integrated satellite systems So essentially the objective of DLR at all or in any case of our department is to carry out research oriented studies so that we have really applied research from a low TRL that is corresponding to theoretical studies up to higher TRL that is up to 6-7 but even 8 in some case so that we are really able to start from the basics to reach higher maturity of technology to be demonstrated by means of prototypes and all of this of course goes into the direction of studying and thinking of new technological development because in the end we are a no-profit institution and similarly to what academia does we are mostly interested in developing a vision of what could be the future with respect to different sectors in our case ICT and in the context of satellite communication and eventually to make an impact on the world of science and technology in the specific areas where we are involved in particular the main areas my department is involved in have to do very quickly with global connectivity, global positioning we recently started cyber security, autonomy and cooperation for what regards global connectivity, our main focus is on very high-throughput satellites in RF or in optical frequency with a number of specific topics dealing with the space and the ground segment design for what regards the optical part this is kind of one of the success story of our department especially for what regards the highest worldwide recorded data rate achieved with the optical link that was around 32 terabit per second over 10 km and other topics related to the data download for which we have a program of CubeSats with the downlink again in optical technology where here there are some pictures of colleagues who worked on the development of such a technology and still in the context of global connectivity certainly we cannot mention the case of nano-satellite for the specific application of IoT M2M where our interest is mostly on the optical satellite links and feeder links as well as the development of SDR based payloads and of course in the context of IoT M2M a particular focus goes to advanced random access and coding schemes Last but not least, since we have a strong focus on optical communication, we have an optical ground station placed in Oberfaffenhofen actually on the roof of our building and in addition to that we also have a transportable optical ground station that is placed on a van that is used to additional measurements that typically as you can see are carried out during night in order to have favourable weather conditions So this was just a quick introduction about my institution This said, I think it's now time to move into the actual topic of today that is to see a little bit, let's say the different angles under which Mac satellite and beyond 5G can go together So, as I was saying before, nowadays it's quite common talking about 5G, 5G smartphones, 5G based infrastructures and so on Nevertheless, and I think it's a common feeling for all of us who are deeply involved in the scientific world either because of an academia or because of general research studies the next big thing is indeed 6G and from this perspective it's worth saying a few words on the different use cases that are envisioned for 6G and the overall chain that can be considered from the application to the enablers that will compose the so-called smart connectivity agenda that is also a building block for the upcoming program of the European Commission the so-called Horizon Europe with the special reference to the part of the program that is called smart networks and services As you can see here, there are a number of use cases that are well identified that are quite broad for the number of technologies that can be envisioned as well as because of the different specific scenario because we are talking about education but also about agriculture and emergency and rescue and just to mention some of them here there are roughly 15 different use cases and this is just an exemplification, many more could be considered 6G however, is something that as it happened with 5G years ago at the beginning is still not fully defined there are many concepts that have popped up in the last years like the deep use of machine learning and artificial intelligence concepts, new frequency bands and all of this will enable new services like more advanced AR, VR or MR experiences holographic telepresence, pervasive connectivity, unmanned mobility This doesn't come for free in the sense that specific service requirements have to be met that are the typical ones and what I want to put emphasis on is that according to what we found out in the course of the studies performed by the focus group on technology for Network 2030 as part of ITUT there is a specific role that will be played by the so-called space terrestrial integrated neural network STIN where obviously not all the main requirements might be addressed by this because if we think of sub-millisecond latency as often is demanded by 6G, satellite may have some troubles because of the latency that inherently characterise a satellite system Nevertheless, there are other scenarios where satellite can play an important role And satellite of course belongs to the slightly larger umbrella of NTN that is the name under which in 3GPP the standardisation for satellite integrated into the overall 5G ecosystem is considered where NT stands for non-terrestrial network, that's why it's not just limited to satellite but also embraces other aerial technologies like HAPS or in any case objects that are orbiting from 80 km in altitude up to the typical altitude of geostationary satellite that instead is about 36,000 km This set makes the positioning of satellite quite prominent for the very next future I'm talking about the transition between 5G and 6G, the so-called beyond 5G and in general 6G This is somehow witnessed also by some recent trend or some, let's say, trends that are coming from the past like the new explosion of the LEO satellite market I think all of us are well aware of these continuous launches of new satellites So as to build a constellation of several thousands of satellites I'm saying that this is coming from the past because the first wave of LEO satellites has somehow started 20 years ago but was unsuccessful Many of the companies that were behind those plans at some point had to give up Some of them were subject to bankruptcy and therefore for many years LEO satellite was an object that was mostly used, I would say, for Earth observation missions or for experimentation but without a concrete vision towards the internet that instead is appearing again now But the main point that I think we have to focus on now, at least for this presentation is what you can read here on the top of this picture where I can read onboard cache And onboard cache is one of the topics that is becoming more and more popular with respect to LEO satellite design that automatically, let's say, links us to possible Mac opportunities where Mac is multi-access edge computing or according to the old terminology, mobile edge computing We are quite aware of the fact that Mac is quite pivotal in 5G in order to support services as part of EMBB, ULSC or MMTC and especially for all those services that were inherently requiring very low delay or other situations where a large amount of data coming from an IoT application had to be processed and Mac implementation, in fact, has the value of extending the concept of a cloud run into 5G plus network that is 5G and beyond and therefore also 6G and the main value also consists in reducing the cost of deployment and also allow for this so-called zero perceived latency that is one of the main, let's say, topics that is out now since years that was also some of the drivers for 5G and certainly will be even more important for beyond 5G and 6G Mac is not just a theoretical topic or something of interest from an academic standpoint there are important facts also from a market standpoint because the forecast, for instance, in the case of the United States, in the horizon until 2025 shows that there are important expectations in terms of market growth and the Mac market, as you can see on the right hand side in the bottom with the pie chart is composed of different sectors that would benefit and it is not just about the classical ICT, but it is also dealing with automotive, smart cities, smart homes, energy utilities and also data centers just to confirm that the market of MEC is expected to grow and grow and therefore to play an important role in the final actual deployment. The macro role in 5G, we know probably this feature that is kind of merging the standardization work that is being done in 3GPP on the one hand, the left hand side of this feature and then the part that is mostly related to management orchestration on MEC that is being carried out instead on the ETSI homonymous working group so that the merging of these two worlds, so joining the forces, is able to provide a full picture of all the components necessary for the deployment of Mac. But the point that I wanted to address today, so the main question is what is the role that MEC can play for satellite or what is the satellite role with respect to enabling new services or getting a specific niche of market from the larger market growth that I was showing before for MEC. MEC is a very large umbrella. Typically MEC is seen as something related to edge computing. Nevertheless, it also addresses edge caching and that's why satellite is seen as a potential important player in this, which is also for the inner and the capability of satellite to push content altogether to destination by means of multicast capabilities. Edge computing, however, is not something forgotten or not applicable for a satellite, because certainly the case of IoT based services directly working on space like on satellite payloads and so on is something that is becoming more and more interesting. And last but not least, there is the point of the low delay services. As we said, Leo satellite may be a possibility because satellites typically are seen as bad players for delay because, for instance, a geostationary satellite introduce a delay, satellite to ground already over 125 milliseconds, so around three times is roughly half a second. And this, of course, is not in line with this very low delay that are expected. If we are going instead in the direction of a low-earth orbit and specifically towards a very low-earth orbit satellite with the altitude maybe around 300 kilometers, then we have a very different picture so that the delay services up to a certain extent can be applied. And in any case, the availability of edge directly on board or on ground by the ground station can still help achieving this concept mentioned already before of zero perceived latency. There are, however, a number of open challenges. Some of these challenges are being worked out in the so-called roadmap carried out by the INGR initiative that is an initiative to develop, let's say, a vision of beyond 5G, where there is a dedicated chapter on satellite. And in particular, there is a section on multi-axis edge computing where a team of people, I was the leader of the team, and amongst the people I see that are together with us, there is also Daniele Tarki from University of Bologna. We tried to figure out what are the main challenges to have MEC applied in satellite context and what could be the possible solutions. And in this study, preliminary study, that will be published as part of this larger roadmap, probably in the next month of this year, a number of aspects were identified, especially with respect to network functional virtualization, computational loading, caching, orbital systems, service discovery, deployment and orchestration. So that we can see immediately there are a number of classical problems or problems that were somehow already addressed in the case of terrestrial systems, that become more complicated in the case of satellite context, especially because of the peculiar characteristics of satellite in terms of delay, in terms of mobility, in terms of geometry. And nevertheless, there are a number of networking paradigms or problems that are to be properly understood and scaled to this new scenario, like for instance, service discovery, orchestration for resource allocation, computation of loading, and last but not least, the first one, network function virtualization, in order to see how to develop a consistent service function chaining model that includes also the satellite part. What is the status quo? Well, looking at what is being done in European projects or funded by the European Space Agency, there are a number of activities that looked mostly at the edge caching part. More recently, edge sat is also looking at the, let's say, at the classical, if you want to say this way, edge computing concepts. And there have been, as I said, some demonstrations in the past years with the involvement of all players of the full chain, from content providers, satellite operators, and then the last mile to reach the final user. And this has been also demonstrated in the course of the SAT-5G project, that is a project that was funded by the European Commission under the H2020 programme, where there was indeed the goal of showing how MSC can be used in the integration of satellite and terrestrial networks. Beyond that, that is, this is what has been done so far, so until 2020, 2021, in the case of edge sat. If we are talking instead of our 6G, we have to broaden a little bit our view and see what is the future of satellite systems and how this can be conjugated with the MEC system. This is the case of the 3D satellite system, where we have a multilayer infrastructure that is composed, of course, by the terrestrial one. And then there are a number of tiers that are given by air, aerial components, satellite, GEO, MEO or LEO, but also other area systems like high altitude platform, hubs, aircraft, drones and so on, because nowadays the airspace is going to be more and more occupied, as we know, and this, of course, opens up new opportunities for internet working and therefore for enabling new services. So that at the very end, the idea is to have a distributed network for data delivery, but it's not just for data delivery, but can be as well for distributed computing. Distributed is also a key word for caching and this is the case of what was published years ago under the concept of follow me cloud, so that we may think of micro data center implemented on board satellite and if you think of the LEO constellation to play such a role, then we have a distributed cloud. Something even more interesting that looks really into the future is going in the direction of computation functionalities implemented on board satellites. And here we have the concept of orbital edge computing, for which there are already some companies in the US that are following these concepts. And there is, in general, the idea of distributing tasks in space across multiple neighbour satellites, for instance, in the case of image processing. And in general, there is the possibility of coordinating a little bit between the ground and the space segment, which tasks should be and how they could be implemented. This, of course, has also some important implications and advantages in the case of IT-based data that may be subject to our very first processing already in space in order to reduce the load of the very same processing, but done on the ground part of the network. If we put together all these elements, it's possible to define a certain number of architecture. The one I'm showing here that is based on a publication I did with some colleagues in 2019 is just a possibility. There are many more that you can find in other publications. I think, however, it's very interesting to focus a little bit on what could be some of the key technologies for achieving such an integration of MSC and satellite. Just to name some of them, information-centric networking, in-network computation. There is a dedicated group, well, that is called the Computational Network, that is COIN and that is a research group under the Internet Research Task Force, DTN. And all of this brings some important points. ICN maybe is more for the caching part. Then the network computation is really to go beyond what ICN is capable. In the past, there was the concept of a named function networking in parallel to the named data networking. that is another specific architecture belonging still to the ICN umbrella. And this brings to the concept of a network function as a service. Similarly, we can also think of a computation function as a service. That is another concept that has been mentioned in some of the Internet drafts of the COIN research group. And last but not the least, of course, there is a DTN that can play an important role because of the capability of coping with the intermittent connectivity. So, if we want to summarize a little bit these key points, from a satellite perspective, we certainly recognize that MAC will be a key element of a 6G system. It's already like this for 5G and certainly this will become more and more concrete and important for 6G. Also, because in all the scenarios I've presented, it's immediate to see that also artificial intelligence will play an important role. And artificial intelligence is one of those elements that is considered as the main building blocks that will make a kind of revolution between what we know today, telecommunication networks, and how they will appear in the very next year. Artificial intelligence is something already applied now, but what is expected that the world, as we know it today, will change radically very soon. All of this, of course, introduced the opportunity of including also the non-terrestrial network as part of this 3D satellite system that I was showing before, in order to enable new services. I've seen before some advantages, especially for what regards the possibility of using on-board processing capability of satellites and also exploiting inter-space links, inter-satellite links for implementing distributed MAC architecture. Nevertheless, all of this has a cost, because from a theoretical standpoint, of course, there is the necessity to develop new networking strategies in order to scale the current network computing capability in terrestrial systems up to space. And more important is to see whether this concept of 3D space system can be considered from a business perspective a credible one so that there can be important investment from the industry in order to make the liaison between terrestrial and satellite systems reality. And as such, as a very next step, there is the need of joining the forces between academia and industry from the different domains that are in this case terrestrial and space to find out a kind of optical configuration, a trade-off, typically we say in the scientific world, in order to compensate the challenges that I was mentioning before in the previous slides with the appropriate solution that are, however, to be sustainable from a business perspective. That's why it's important to see in the very next years how it will be the business model of all these new Leo constellations and how this will be successful in the short term, because this will be a kind of baseline to develop new services and therefore to attract even more investment from other sectors, verticals, but also in general operators that will be where most interested on the terrestrial side. So that's close my presentation and for sure you can contact me at this email address, but I'm pretty sure here we can open the floor for discussion and some questions. Sì, grazie Tommaso, scusa, sono comparso in video, non ti volevo mettere ansia, hai ristretto velocissimo nelle conclusioni un sacco di punti che sono certamente interessanti e anzi direi che poi gli dedichiamo anche un paio di domande. e faccio semplicemente da raccoglitori di domande, as usual, potete mettere in chat o raise hand nell'icona la manina e a seconda di come arrivano le domande e poi le smisto di conseguenza. Intanto ti faccio una domanda, la presentazione è interessatissima e non c'è dubbio che ci sono davvero tantissimi aspetti, una domanda che sicuramente ti aspetti o che comunque ti puoi aspettare da parte di chi è coinvolto nei comitati di standardizzazione, non poteva mancare la slide di standard Etsy che prende posizione nel settore e anche in questo settore qua dell'age computing, di interconnessioni tra le reti come hai ben spiegato, di temi ce ne sono davvero tanti. La domanda è rispetto alla configurazione dello standard Etsy, che cosa hai visto invece come standard de facto? In realtà hai già risposto a questo perché hai poi parlato immediatamente dopo di quello che sono le implementazioni correnti. Se però vuoi dedicare ancora un pochettino di tempo a questo credo che sia un tema interessante. Diciamo che ci sono due, un po' di aspetti diciamo da prendere in considerazione. Da un punto di vista della standardizzazione, come mostravo in quella slide, diciamo che Etsy e FreeGPP si sono mossi per un certo periodo in parallelo. Etsy ha avuto un focus principalmente sulla parte di management, FreeGPP più sulla parte dati e in parte anche sulla parte controllo. E ovviamente in questi processi che sono andati in parallelo, ovviamente i vari stakeholders, i vari players hanno sviluppato le loro soluzioni, i loro tools, i loro prototipi, che poi sono diventati in alcuni casi dei veri e propri prodotti. La domanda che mi poni penso che sia soprattutto rispetto a qual è il posizionamento dell'industria satellitare in questo senso. Dunque l'industria satellitare, parlando soprattutto per la parte europea che conosco un po' meglio e per quanto mostrato prima relativamente a quanto fatto in progetti europei o progetti IESA, si è focalizzata direi principalmente sulla parte di caching. Quindi caching fatto comunque nella parte sull'infrastruttura terrestre, nel senso che il ruolo del satellite è quello di fare il cosiddetto push dei contenuti via multicast. E il grosso vantaggio del satellite è che in un colpo solo, ovvero con un singolo hop, praticamente si può raggiungere un gran numero di utenti. Mentre invece con una rete terrestre, dovendo passare attraverso una core network, eccetera, ci sono più hop e questo pone in un certo senso il satellite in una posizione predominante, soprattutto per quegli scenari in cui l'infrastruttura terrestre può essere non sempre presente, tipo remote areas, eccetera, per esempio adesso nell'ambito 6G, forse siamo un po' tutti al corrente di tutti questi white papers che sono stati sviluppati nell'ambito del 6G trainato dall'Università di Hulu in Finlandia e uno di questi si chiama proprio, o comunque il cui tema principale è connecting the unconnected, ovvero vedere un attimo come veramente chiudere il digital divide. E in questo ovviamente il satellite ha una sua funzione. Ritornando però al discorso deployment, eccetera, come dicevo prima, un certo attenzione è stata posta principalmente a edge caching, soprattutto per il focus dell'industria satellitare nel pushare contenuti in termini di linear, ma soprattutto non linear, video distribution, il classico video on demand che se ne pensiamo oggigiorno a players come Disney, Netflix, eccetera, inizia ad approcciarsi anche col mondo satellitare, per cui c'è una fusione più spinta, diciamo, tra la parte di satellite operator e di content providers, mentre invece nel passato solitamente questi aspetti non erano così chiaramente fusi. E quindi come dicevo prima, edge caching con tutti i prototipi e le soluzioni che sono stati sviluppati da vari operatori, adesso non voglio fare pubblicità, comunque ci sono varie soluzioni sul mercato disponibili. La nuova frontiera è quella un po' più meccoriente nel senso tradizionale del termine, ovvero dell'edge computing, che è sicuramente di grande interesse per l'EO constellation, ma anche nano constellation, droni, eccetera. Qui ovviamente si apre un mondo perché ovviamente sia i costi, soprattutto nel caso del lancio di satelliti, ma anche per lo sviluppo di satelliti, è decisamente inferiore al caso dei satelliti geostazionari, di cui solitamente si parla per l'edge cache o di cui si è parlato almeno negli ultimi anni. E questo ovviamente apre delle nuove prospettive anche a livello di servizi e applicazioni, per cui alcuni di quei servizi che menzionavo in una delle primissime slide relative a 6G, soprattutto con focus su IoT, è sicuramente uno di quei settori in cui i satelliti nel senso di Leo constellation o nano constellation potrebbero avere un ruolo importante nell'immediato futuro. Premesso che tuttavia ci siano dei business model che permettano di avere un investimento molto stabile e corrisposto da un significativo return of investment in modo tale che negli anni i sistemi continuino ad evolvere e quindi diano la possibilità al satellite di giocare un ruolo importante in questo settore. Sì, certo, proprio a questo proposito, vedo che i colleghi fanno i timidi, gli rinnovo sempre l'invito a mettere un commento in chat, poi gli passo volentieri la parola per fare una domanda, un commento, una considerazione. faccio comunque da tramite perché immagino, per esempio qual è la tua visione anche rispetto al discorso che facevi dei colleghi finlandesi della copertura del digital divide, concretamente perché diciamo una linea forte del nostro istituto è 6G, qual è la tua visione di differenza tra 5G e 6G? Parla apertamente, tanto siamo tra amici, puoi parlare apertamente. Beh, diciamo che anche in base a quanto a volte si sente dire, 5G ha rappresentato, rappresenta già una forte linea di demarcazione rispetto al mondo precedente, io parlo di 4G eccetera, un po' come era stato per il 3G o MTS eccetera, rispetto al GSM 2G. Quindi molto spesso si dice che il 6G sarà da un certo punto di vista un consolidamento di quanto è stato fatto o quanto proposto in ambito 5G, tenendo anche conto che tipicamente queste wave, queste generazioni cellulari hanno uno span di circa 10 anni dal momento in cui si inizia a parlarne fino al momento in cui più o meno gli standard diventano tali e ci si possa iniziare a parlare di deployment. Questa è un po' la visione da un punto di vista industriale o di standardizzazione. Da un punto di vista accademico o scientifico, che è un po' il mondo che io rappresento più da vicino, vedo il 6G come un grosso contenitore di nuove tecnologie o meglio tecnologie che magari erano già iniziate a essere considerate negli ultimi anni, per esempio Terahertz sicuramente è qualcosa di cui se ne parlava in realtà già parecchi anni fa e poi più recentemente ci sono stati più forti interessi anche a punti di vista dell'investimento. Vedendo il 6G soprattutto per quanto riguarda i satelliti e non solo perché è un qualcosa che facciamo nel mio istituto, al DLR, c'è sicuramente l'attenzione sulle comunicazioni ottiche, comunicazioni ottiche ovvero link ottici tra satellite e stato non interesse oppure tra satelliti e questo ovviamente apre nuove prospettive, le comunicazioni ottiche è un qualcosa che è iniziato a livello sperimentale parecchi anni fa e inizia a dare i suoi frutti in questi ultimi anni sia a livello di applicazioni o meglio scenari spaziali e nel breve termine ci si aspetta che si possa aprire anche una realtà commerciale, i cosiddetti feeder optical link in modo tale da dotare l'infrastruttura satellitare di quella capacità in modo da venire incontro ai requisiti più stringenti che si avranno con 6G e poi sicuramente non per abusare delle buzzwords che ci sono in questi giorni sicuramente quantum computing, quantum networking è qualcosa che rappresenterà uno shift rispetto a quanto visto finora in 5G il quantum è qualcosa che è venuto fuori negli ultimi due o tre anni concretamente ma sicuramente avrà una fortissima spinta soprattutto a livello di studio, poi concretamente bisogna vedere fino a che punto si raggiungerà un TRL adeguato in questi anni e vedendo un attimo anche i piani della Commissione Europea sicuramente c'è un grosso interesse su cosa quantum può rappresentare sia da un punto di vista della sicurezza, vediamo quantum key distribution, post quantum encryption ma anche in generale su che cosa significhi fare quantum network o quantum computing anche quindi ci sono tutta una serie di paradigmi che sicuramente caratterizzano in modo significativo 6G rispetto a 5G last but not the least, questo comunque è qualcosa di cui io e te e Mauri ne abbiamo parlato parecchie volte artificial intelligence è qualcosa che non è semplicemente le reti neurali che abbiamo studiato più o meno insieme ai tempi dell'università, ai vari corsi che stavano al tempo, ricerca operativa mi riferisco ma è un qualcosa che diventerà proprio predominante in diversi parti della full chain delle telecomunicazioni quindi a livello core, a livello del run, data processing, analytics eccetera quindi sicuramente quello è uno di quelle buzzwords ancora che caratterizzano in modo significativo il 6G e sicuramente anche le generazioni a venire sì sì, sì, ottimo, grazie Tommy, ottimo anche gli aspetti dell'AI, conflitto di interesse quindi non aggiungo altro rispetto al quantum soprattutto è un altro aspetto per noi molto interessante purtroppo dobbiamo andare verso la chiusura in effetti poi è proprio solo più bello che si scalda poi l'ambiente perché avremo ancora un paio di domande do sicuramente priorità a Vittorio Rampa che invece rispetto all'altro discorso che facevi delle tecnologie presunte, decadenti un altro tema che in realtà avevamo toccato in passato era le high amplitude, le high altitude platform e mi faceva notare Vittorio Rampa che è il nostro collega che si occupa di reti 5G, IoT e anche AI il progetto, guarda, te lo metto in chat che probabilmente comunque lo conoscerete però per completezza ve lo metto in chat il progetto Loon di Google che era proprio dedicato alle high altitude platform lo chiude è però proprio dedicato alla copertura delle aree rurali si può dire che andava di moda nei primi anni 2000 da questo punto di vista invece ti risulta cioè ti risulta che quella non è più una tecnologia su cui si investe diciamo che le app hanno avuto un po' un up and down negli anni nel senso che anche noi come DLR eravamo stati coinvolti in un progetto europeo concluso vari anni fa che si chiamava Absolute in cui uno degli obiettivi era di garantire connettività nelle fasi aftermath, ovvero post disaster e una delle possibilità era quello di usare dei balloon quindi assimilabili a delle app posizionate in modo più o meno fisso in cielo in modo da garantire un backhaul più o meno affidabile e permettere la comunicazione tra più aree soggette no, dato per essere concreti se pensiamo per esempio a un terremoto in cui l'infrazzatura terrestre non è più disponibile è un terremoto su grossa scala quindi di grosse dimensioni se abbiamo più team di soccorso in azione in alcuni casi diciamo solo Tetra o le altre tecnologie mobili disponibili non sono sufficienti soprattutto se questi team lavorano in zone isolate e quindi la disponibilità di soluzioni tipo app era sicuramente un valore aggiunto c'era on top of app anche i satelliti però il satellite era visto soprattutto per garantire un backhaul link verso i centri della protezione civile o altro dove venivano prese decisioni da remoto dove comunque c'era necessità di condividere dati tra i first responder quindi a quel punto di vista l'app era qualcosa che poteva rappresentare poteva avere un suo perché oppure anche nel caso di eventi fortemente popolosi non so tipo Olympic Games, concerti eccetera per cui le app potrebbero garantire un surplus di connettività nel caso in cui le celle di un sistema per esempio al tempo 4G potrebbero essere potrebbero andare in saturazione ora con nuovo interesse diciamo verso satelliti in special modo verso i cosiddetti non terrestri al network a parte di 3GPP in cui c'è proprio le app come una delle possibili tecnologie non mi sento di dire proprio che le app siano morte sicuramente ci sono altre tecnologie come appunto nano constellation picco constellation quindi nano satellite picco satellite e non ultima anche se non sono storicamente parte del mondo satellite i droni che probabilmente sono visti con un migliore appeal da un punto di vista del deployment quindi di costi e poi anche di servizi che si possono diciamo sviluppare bene bene grazie controllo anche perché prima è arrivata da Vittorio via Whatsapp se c'era qualche altra segnalazione purtroppo ci dobbiamo salutare però sai che ti faccio poi ancora una domanda inevitabile e sai però che la tua presentazione adesso finisce nel gruppo YouTube dedicato e diffondiamo la presentazione auspicabilmente verrai poi stalkerato o contattato poi anche dagli altri colleghi e certamente non mancheremo assieme anche con i miei colleghi più diretti dell'istituto eventualmente per approfondire la discussione rispetto al tema di quanto me gli hai sicuramente prima di salutarti se appunto non ci sono altre segnalazioni aspetta un attimo che vedo ok Vittorio saluta e lo salutiamo anche noi siccome poi mi dimentico ci devo ci tengo a segnalare che per il prossimo appuntamento dell'11 di febbraio alla stessa ora e ci sarà lo speech del prof Marco Aldinucci dell'Università di Torino alla quale anche si è invitato Tommaso perché è dedicato a the evolution of high performance systems from HPC to big data to deep learning è molto interessante il link è sempre lo stesso quindi sai che ti puoi unire e con scadenza quindicinale lo spirito è quello di fare proprio una cosa di aperitivo 17.30 18.30 anche per quello che ora saluto i colleghi e soprattutto saluto Lucanos e Nicola che organizzano sempre grandemente questi eventi ti ringrazio Tommaso concluderei però con la domanda inevitabile ora che c'è l'anno di transizione verso Horizon Europe qual è la tua visione delle call di interesse da questo punto di vista delle tematiche di cui ci hai raccontato beh la situazione Horizon Europe beh sappiamo che Horizon Europe formalmente diciamo inizia col 2021 le tematiche che ho presentato diciamo sono coperte verranno coperte in quella filone che in questi due anni precedenti di diciamo di formazione è stato chiamato Smart Network and Services e a quanto pare per tutta una serie di ragioni in cui non mi addentro sicuramente adesso queste call sicuramente usciranno un po' più avanti nel senso che ottimisticamente sembra che le prime call il bandi apriranno ad aprile però con scadenza ad ottobre però i primi progetti non si vedranno prima del 2022 i primi progetti a iniziare però questa è la visione un po' ottimistica sembra che i tempi si allungheranno cioè nonostante vorrei anche puntare o comunque suggerire di dare un'occhiata ai nuovi progetti che sono stati selezionati nell'ambito ICT 52 che è una delle ultime call dell'anno 2020 che fa una specie di bridge tra il 5G e il 6G sono stati scelti se non sbaglio nuovi progetti su diversi aspetti non comprendono satellite però ci sono un po' tutti le componenti che sicuramente saranno la base anche per il 6G e sicuramente uno di questi lo si può vedere solo dal titolo di questi progetti artificial intelligence è uno dei punti chiavi ovviamente unitamente al processing ai computation capabilities eccetera quindi secondo me quei progetti possono rappresentare un punto di partenza per capire anche un po' qual è la direzione e poi ovviamente i bandi saranno più o meno allineati in modo tale per dare una certa continuità a questi filoni ecco bene bene grazie Tommy allora grazie a tutti